...despositori, che questa di oggi è una tappa per la Winter Cup, la Chichiccicoy Winter Cup, il terreno di fatto. Ossia, abbiamo già vinto una tappa, questa è la seconda, la terza sarà... Ma questa è la prima, la seconda sera giunta, la terza sarà, adesso, la presentazione di sezione e la prima è sempre quella migliore. Bene, per il best in show finale, torniamo il giudice che arriva dalla Corea, il signor Sengong Lee. Il lunghissimo viaggio, è capitato il bambone, è alto, e chiamiamo per questa finalissima. Grazie.